Nunzia Nucci, sindaco di Sant'Angelo del Pesco, una riconferma importante da parte dei cittadini di questo comune dell'Alto Molise che l'hanno voluta di nuovo alla guida del paese. Sì, ringrazio tutti i miei elettori e tutti i miei cittadini di avermi dato la possibilità di iniziare questo nuovo percorso e questo nuovo mandato, che sarà ricco di tante piccole soddisfazioni e tanti piccoli progetti che dovremo concretizzare. Abbiamo sentito in campagna elettorale che lei vuole coniugare il turismo alla socialità. Sì, il turismo e la socialità hanno fondamento in un maneggio che è in fase di completamento e su cui abbiamo dedicato un progetto sulla riabilitazione equestre per persone con disabilità, l'onoterapia e l'ippoterapia. A questo va coniugato un grande sogno nel cassetto che abbiamo è che la realizzazione di una zip line con partenza dal territorio dell'eremo di San Luca, che ricade nel nostro territorio, nel territorio di Sant'Angelo del Pesco e con la sua ricaduta sulla zona del maneggio. Tanti altri progetti e tanti altri percorsi come la ciclopedonale del Sangro e via dicendo. Abbiamo anche tanto altro sul sociale e speriamo di poterlo concretizzare e realizzare. Tra due anni circa dovrebbe essere anche completata finalmente la Fondo Valle Sangro. Lei è stato uno dei sindaci in prima linea. Ricordiamo quando Luciano D'Alfonso è venuto a Sant'Angelo del Pesco per parlare della provinciale. A tal proposito le chiedo se ci sono delle novità per la sangrina. Sì, ci sono delle importanti novità a frutto dell'ultimo incontro con il senatore D'Alfonso, dove lui si è preso l'impegno entro fine mese, entro inizi di ottobre, di far rientrare la SP88 Sangrina nel percorso di completamento dell'ANAS, cioè rientrerà nella disponibilità di ANAS fino al completamento della Fondo Valle Sangro. Questa è una promessa, ma non è una promessa che è già una realtà. Quindi buone notizie, invece per quanto riguarda il fronte internet, come siamo messi con la rete? Diciamo che martedì abbiamo il collaudo di Open Fiber, quindi siamo in fase di ultimazione. Anche lì è una grande soddisfazione frutto di un impegno preso nel 2015 dalle tante amministrazioni delle aree interne, affinché venga colmato questo gap, questo divario sulle telecomunicazioni che le nostre aree interne hanno. Avete in mente qualche nuova strategia per cercare di arginare questo spopolamento demografico da parte di tanti giovani soprattutto? Lo spopolamento verrà colmato soprattutto dai tanti progetti che ho poco anzi citato e soprattutto il completamento della Fondo Valle Sangro ci dà l'opportunità di un volano turistico irripetibile a cui dobbiamo essere pronti con le tante novità e tanti progetti che prima vi ho elencato e soprattutto con il piccolo divario che abbiamo che ci collega alla zona industriale di Atessa. Quindi questo è un importante sviluppo lavorativo per i tanti giovani del nostro territorio. Vuole rivolgere in ultimo un saluto alla nascente redazione di Abruzzo e Molise Live che oggi si è trasferita qui nel suo bel comune? Sì, io rivolgo un grande saluto e un grande in bocca al lupo alla nuova attività soprattutto di Fabrizio Fusco e delle tante persone che coraggiosamente si sono addentrate in questo nuovo progetto che danno voce ai nostri territori e alle nostre aree interne che hanno tanto bisogno di queste iniziative.